Bentornati, bentornati sul canale, buon inizio di settimana a tutti. Ha parlato Beppe Marotta, quindi andiamo subito al noccio della questione. Ha parlato Beppe Marotta, intervistato dalla nuovissima radio tv serie A e ha confermato praticamente tutti quegli scenari di calciomercato in particolare dei quali vi ho parlato fino al video di ieri sera. Quindi conferme totali per Pavar, per Sanchez Correa e non solo. Andiamo alla lettura, vi leggo le dichiarazioni virgolettate riguardanti le parole di Beppe Marotta. Annunci in giornata, chiaramente il riferimento era Pavar perché in tanti hanno detto che si potrebbe addirittura chiudere proprio nelle prossime ore, in queste ore. Oggi impossibile, ha scherzato il dirigente Nerazzurro, ma siamo messi bene. E quindi un'ulteriore conferma di quanto già detto allo stesso Marotta nel pre-Inter Monza. È un obbligo essere ambiziosi e puntiamo in alto. Non tutto si riesce a realizzare, ma non vogliamo illudere i tifosi come spesso siamo tacciati di fare. Gli obiettivi sono di prendere gente competitiva. Quello che ci manca, che porti esperienza, autorevolezza e forza, è una delle leggi del calcio. Devi fare un mix tra giovani e meno giovani. Solo giovani non si vince nulla, né può essere una squadra di soli vecchi. In Italia, e questo è il mio 47esimo mercato, oggi c'è un calcio diverso dagli anni 90. Bisogna rincorrere opportunità. Non possiamo fare dei veri investimenti. E questo è un grave problema, insomma, che abbiamo dibattuto spesso anche su questo canale. Oggi nei nostri bilanci le uscite devono rappresentare una caratteristica. Non c'è una società in Italia che vuole investire, ad esempio, 200 milioni in una campagna estiva. E quindi un'Inter competitiva con Pavard. Siamo vicini, diciamo così, siamo vicini, siamo vicini. Sul Lukaku, l'operazione Lukaku ha lasciato tanta delusione. Poi è giusto che lui faccia la sua strada e noi facciamo la nostra. Ora non ha più tante alternative. Non credo arriverà in Italia, dice Marotta. Mancano solo 10 giorni, ma non conosco le dinamiche del Chelsea. Ci sono società che stanno facendo bene e mi fa piacere come componente della Serie A. Poi su Sanchez, attenzione, attenzione, altra conferma, altra conferma su Sanchez. Sanchez può starci quando convivi con un calciomercato che c'è anche quando giochi. Se domenica un giocatore non gioca, il giorno dopo chiede di essere trasferito. Correa chiede spazio. Quindi sembra quasi che sia Correa a voler lasciare l'Inter, non l'Inter a volerlo in qualche modo scaricare. Correa chiede spazio. Noi non teniamo i giocatori per forza. Ne sta parlando con ausilio. Se vuole andare via, cercheremo di accontentarlo. Siamo contenti che Sanchez stia tornando. Parole di Beppe Marotta. Ha grande passione. È andato via a malincuore. E ora ha mandato segnali di ritorno. E questo è un fatto positivo. Suonana. Quando un calciatore viene richiesto da un club più ricco, è difficile trattenerlo. Davanti a richieste importanti, i club italiani non possono rifiutare. Certe somme non si possono rifiutare. Onana è arrivata a parametro zero per un'intuizione di ausilio. È venduta a 50 milioni. Un'operazione positiva. Poiché poi sono più di 50 milioni. È arrotondante, ma rotta giustamente. Non potevamo concorrere con l'offerta che gli è arrivata. Questo è il compito dei nuovi profili manageriali. Attività di scouting e individuare subito gli avvicendati. Poi vabbè, sul fenomeno arabo, sull'autaro. Occhio alla questione attacco. Il grande manager, dice Marotta, deve avere sul taccuino grandi nomi. Avevamo altri obiettivi per l'attacco, in riferimento chiaramente all'arrivo di Arnautovic. Ma stringendo il cerchio abbiamo deciso di cogliere l'opportunità dell'austriaco. Dispiace averlo sottato al Bologna, avendolo messo in difficoltà. Quindi la conferma che Arnautovic arriva dopo l'impossibilità di raggiungere obiettivi differenti. Che non c'è nulla di male. Ma per onestà, come ve l'ho sempre detto, le cose vanno raccontate. Qui non si fa né i tifosi, né i talebani, né quelli che, no, io non tifo Inter, io non tifo nessuno, sono i superparti, si utilizza il calcio o altre cose. L'importante è essere chiari. L'importante è essere sempre chiari. E possibilmente onesti. Su Sensi. Sensi ci fa vedere sempre dei bei precampionati. Ma ha avuto sempre problemi fisici. Se riesce ad allenarsi con continuità può darci un bel apporto. Essere arrivati in finale di Champions, poi dice Marotta, per questo gruppo che non aveva mai vissuto questa esperienza, è servito moltissimo. Qualche anno fa avevamo giocatori che non avevano mai vinto titoli. Ormai da diversi anni siamo in Champions e siamo arrivati in fondo. E ci aggiungo anche con la nazionale. Alcuni hanno vinto. Quando c'è accordo e condivisione non ci sono problemi in riferimento a Inzaghi. Il prolungamento sarà automatico. Infine la chiusura su Quadrado. Quadrado si porta a dire una cultura della vittoria che serve molto. Quando arrivò Pirlo alla Juve, aveva vinto col Milan. Quadrado ha vinto molto. In noi questa cultura della vittoria è cresciuta molto. Torniamo al discorso di creare un mix tra giovani ed anziani con esperienza. Anche per simulare i giovani a dare sempre di più. Parole chiare. Poi ho lasciato da parte alcune altre situazioni. Per non tediarvi, diciamo così. Ma sono parole che, ripeto, vanno nella stessa direzione di quanto, appunto, nonostante in tanti siano ancora scettici, andava la narrazione e il racconto che vi sto facendo, insomma, da qualche giorno. Poi questo non vuol dire che l'Inter abbia già preso Pavard, che abbia già piazzato Correa, che abbia fatto tornare Sanchez. Non vuol dire questo. Però vuol dire che si sta lavorando veramente, concretamente, in questa direzione. E mancano ultimi tasselli, non banali, non scontati, ma mancano ultimi tasselli per completare tutto il mosaico. Il mosaico a quel punto, secondo me, sarebbe positivo. Perché l'Inter sarebbe completa in difesa, completa centrocampo, molto ben attrezzata sulle fasce, oltre che completa. E con Sanchez al posto di Correa, con Sanchez che sta bene, come è stato bene nella stagione del Marsiglia, tanto per essere chiari, come è stato bene l'ultimo anno di Inter, con Sanchez che sta bene, secondo me l'attacco è un buonissimo attacco. Non sarà un attacco stellare, come quello del Paris Saint Germain fino all'anno scorso. Non sarà un attacco che magari affascina qualcuno. Non sarà un attacco... L'attacco che ci si aspettava dopo la rinuncia di Lukaku e l'addio di Dzeko, e lo ha detto lo stesso Marotta, nessuno qui sta criticando. Però, secondo me, è un attacco che vede tanti giocatori di qualità, di tecnica, e anche di esperienza, e anche di malizia, che in qualche modo, in alcune parti, secondo me, nella scorsa stagione è mancata. Arnautic e Sanchez, secondo me, compensano Lautaro, in parte, e Turam. E magari aiuteranno anche a crescere il francese. Secondo me, per come l'ho visto io, si sta ambientando, ma ha tutto per fare benissimo, anche in Serie A, e soprattutto in Champions League. Quindi fiducia, la parola corretta, e conferme, le parole di Marotta. Fa quasi pure una rima a baciare. Un saluto. Buongiorno Buongiorno